Ben ritrovati con l'informazione dei territori di Bari, Batte e Foggia. Partiamo dal capoluogo l'arma vicina alla gente. Si è presentato così il colonnello Francesco De Marchis, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Bari. Stamattina ha incontrato la stampa. Contribuire a migliorare la sicurezza dei cittadini e consolidare quella funzione di rassicurazione sociale che è da sempre nel DNA dell'arma. Si è presentato così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Bari, il colonnello Francesco De Marchis, 49 anni, origini romane, subentra al generale Fabio Cairo. Dal 2016 al 2021 ha prestato servizio presso il gabinetto del Ministero della Difesa. Due lauree sposato a due figli. Qual è il suo messaggio che lancia ai cittadini? Il messaggio che lancia ai cittadini è quello di affidarsi con fiducia ai carabinieri che sono presenti in maniera capillare nella provincia di Bari. Troveranno sempre una disponibilità all'ascolto, troveranno sempre un'attenzione alle loro esigenze, troveranno sempre una sensibilità rispetto alle istanze rappresentate. È questa la chiave per continuare ad alimentare quel sentimento di fiducia dei cittadini nei confronti dei carabinieri e più in generale delle istituzioni. Il colonnello De Marchis giunge a Bari in un momento delicato, quello della ripartenza. Sarà certamente una fase delicata nella quale l'arma dei carabinieri, al pari delle altre forze di polizia, darà il suo contributo. L'auspicio è quello che anche in questa fase delicata di ripartenza i carabinieri possano continuare a dare il proprio contributo, così come hanno fatto anche durante la fase del lockdown, alla ripresa delle attività sociali ed economiche. C'è sempre carenza di personale nei vigili del fuoco di Capitanata. In estate lo si avverte maggiormente. Il distaccamento di San Giovanni Rotondo è stato istituito ma non è ancora attivo. Una carenza di personale cronica, quella dei vigili del fuoco in Capitanata, che soprattutto in estate risalta, mettendo in evidenza tutte le conseguenti criticità. Il buco è di una trentina di uomini sui circa 300 attivi nella sede di Foggia e nei sei distaccamenti di Cerignola, Manfredonia, San Severo, Deliceto, Vico e Lucera. Manca all'appello quello di San Giovanni Rotondo, istituito ma ancora inutilizzato proprio a causa di una pianta organica insufficiente. Di qui la PEC inviata dalla Wilpa dei vigili del fuoco di Foggia al Ministero dell'Interno e al Capodipartimento per chiedere un rapido incremento di organico senza costi per l'amministrazione. Come mai nei vigili del fuoco di Foggia c'è sempre questa cronica carenza di personale? È dovuta soprattutto ad un blocco delle mobilità per quel personale neoassunto che ha l'obbligo di restare nelle sedi di prima assegnazione per almeno due anni. In questo periodo dell'anno si sente ancora di più questa carenza? Oltre agli interventi ordinari, quali incendi appartamento, incidenti stradali, soccorso a persona, dobbiamo fronteggiare incendi di tipo boschivo, di grano, sterpaglie che quest'anno rispetto agli anni precedenti è quasi raddoppiato. Il Gargano spesso d'estate brucia, una sede che potrebbe essere utile è quella di San Giovanni Rotondo vista la sua posizione però non è al momento attiva, perché? Perché appunto non abbiamo l'organico sufficiente per garantire i numeri minimi, proprio per questo abbiamo chiesto un incremento straordinario di organico utilizzando magari una mobilità straordinaria di quel personale che è operativo in altri comandi ma residente nella nostra provincia. Veniamo ora alla protesta dei disabili a Bari dopo l'incontro con il Presidente Emiliano e nottata è stato raggiunto l'accordo con il gruppo che da qualche giorno aveva occupato la Presidenza della Regione. Dopo quattro giorni e tre notti di occupazione del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia è terminata la protesta del gruppo di disabili a Bari. Nelle scorse ore c'è stato un lungo incontro e confronto tra i manifestanti e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha portato a stilare un documento comune. Successivamente con urgenza è stato adottato dal Dipartimento Salute un provvedimento che verrà trasmesso alle ASL con il quale vengono accolte le richieste dei disabili. Ha risultato incassato il gruppo di manifestanti e ha lasciato il Palazzo della Presidenza e il Presidio sul lungomare. Soddisfazione per l'importante risultato ottenuto scrive Luigi Gariano, uno dei cinque disabili che ha dormito nella sede istituzionale per tre notti per i sacrosanti diritti dei ragazzi e delle famiglie pugliesi. È stata una lotta fino all'ultimo minuto, conclude, ma ce l'abbiamo fatta. Parliamo adesso del Parco della Giustizia di Bari, passaggio politico importante in vista del prossimo decreto sulla nomina dei commissari straordinari per le grandi opere previsto a ottobre, tra queste anche proprio il Parco della Giustizia. Buone notizie per il Parco della Giustizia Bari. C'è il parere favorevole allo schema del decreto della Presidenza del Consiglio sulla nomina dei commissari straordinari per le grandi opere. La Commissione Trasporti della Camera ha inserito tra le osservazioni anche la necessità di includere nel prossimo decreto di ottobre altre opere strategiche per il territorio. Il Parco della Giustizia di Bari, il nodo ferroviario Bari Nord, il raccordo ferroviario dell'aeroporto di Brindisi, il collegamento mediano Murgiapollino e l'estensione del commissariamento anche al secondo lotto della Maglieleuca. A dichiararlo il deputato Gianluca Rospi, vicepresidente del gruppo di Coraggio Italia alla Camera e componente della Commissione Trasporti. Abbiamo ritenuto opportuno inserire nelle osservazioni anche l'introduzione di nuove opere da inserire nel prossimo decreto di ottobre. Opere importanti per il territorio pugliese come il secondo lotto della Maglieleuca, il collegamento mediano Murgiapollino, il collegamento con l'aeroporto di Brindisi, il nodo ferroviario del nord barese, il commissario per la realizzazione del Palazzo della Giustizia della città di Bari, perché è inaccettabile che ancora oggi una città come Bari non abbia un luogo decoroso dove poter svolgere i processi. Dal Ministero della Giustizia anche una importante accelerazione sulla realizzazione del polo unico con una contrazione dei tempi previsti per la realizzazione dal 2028 al 2024. Soddisfatto il Presidente degli Avvocati del Foro di Bari, Giovanni Stefani, da tempo impegnato in questa battaglia di dignità per la giustizia barese. Si riaccendono le speranze sul Parco della Giustizia Bari, la sede unica e nuova per tutti gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Bari. Tanto in forza le dichiarazioni di recente esternato dal Sottosegretario della Giustizia Onorevole Sisto, che avrebbe ottenuto peraltro anche l'abbreviazione dei tempi sulla realizzazione del primo lotto dal 2028 al 2024 e ci ha altresì riacceso la speranza di vedere assegnare il Parco della Giustizia fra le opere da destinare al commissariamento. Ci auguriamo quindi che in questi mesi si possa vedere finalmente realizzata la speranza della comunità barese. Andiamo adesso a Foggia, è stata assegnata ad un consorzio di cooperative sociali, la cosiddetta Villa Lanza, bene confiscato alla mafia foggiana, grande soddisfazione per l'associazione Giovanni Panunzio che ora propone un nome nuovo. Dopo anni di lamentele richieste e appelli da parte dell'associazionismo locale, la cosiddetta Villa Lanza, bene confiscato alla mafia foggiana in zona Salice Nuovo, è stata finalmente assegnata ad un consorzio di cooperative sociali che accoglierà soggetti che arrivano da percorsi di fragilità, decisione che arriva dopo un lungo periodo di immobilismo da parte delle istituzioni. Lo stabile infatti era stato persino ristrutturato completamente ma mai entrato in funzione. Ad accendere i riflettori sulla questione nell'ultimo periodo è stata l'associazione antimafia Giovanni Panunzio di Foggia. Il mancato utilizzo dei beni confiscati significa anche di fatto un arretramento dello Stato rispetto alla lotta contro la mafia, al contrario invece prendere in mano di petto la questione dei beni confiscati, finalmente destinarli a comunità, a consorze, a cooperative meritevoli per un utilizzo a favore di tutte e di tutti, significa invece dare una svolta alla lotta contro la mafia foggiana, contro il cancro che sta devastando e depredando il nostro territorio e sta sottraendo risorse, energie e ricchezze alla comunità foggiana. E quindi questo è sicuramente un esito per noi molto positivo. Tra l'altro anche nel gergo giornalistico è invasso l'utilizzo dell'espressione villalanza, perché utilizzarla ancora in realtà? Perché invece non cambiare nome e non ricordare più il fatto che quel bene apparteneva alla mafia foggiana? Perché non intitolarlo, ad esempio non chiamarlo come casa di comunità Giovanni Panunzio? Giovanni Panunzio è vittima di mafia che merita di essere ricordato in modo doveroso e corretto da parte dei foggiani e delle foggiane per il suo sacrificio, per essersi fatto uccidere a 51 anni, per aver detto no al racket. Andiamo adesso a Bitonto. La Lega oggi ha manifestato in piazza per sostenere anche attraverso un contributo economico con le due imprenditrici, titolari di un bar incendiato due volte in pochi giorni, due anni fa e ora lasciate completamente sole, scrive il partito di Salvini. Abbiamo voluto dare, ha dichiarato il capogruppo in consiglio regionale Davide Bellomo, un segnale di concretezza rispetto alle promesse fatte dall'amministrazione a Baticchio, che aveva promesso di essere vicina a queste due giovani donne e non lo ha fatto. Aveva detto di voler dare un piccolo contributo, un segnale di speranza e non l'ha fatto. La Lega di Bitonto, a cui va dato atto della vicinanza, scrive Bellomo, della vicinanza a queste due imprenditrici, ha fatto esattamente il contrario, ha dato un segnale concreto e poi ha parlato. Andiamo a Sansevero, due colpi di pistola salve sono stati esplosi nel primo pomeriggio contro l'abitazione dove viveva Matteo Anastasio, il pregiudicato 42enne, ucciso a Sansevero appunto durante i festeggiamenti in centro per la vittoria dell'Italia e gli europei di calcio nello stesso agguato. E' rimasto gravemente ferito il nipotino di sei anni, raggiunto da un proiettile all'addome a quanto si apprende. I colpi di pistola potrebbero essere stati esplosi da un uomo in sella a una moto, intervenuta la polizia che ha avviato gli accertamenti per accertare se si sia trattato di una intimidazione o di una bravata. Andiamo adesso a Bari, indagini sono in corso da parte dei carabinieri su un'aggressione avvenuta ieri sera ai danni di un turista su un bus diretto in aeroporto. L'aggressione è avvenuta attorno alle 22.30 nel quartiere San Paolo. Il turista, un 67enne diretto a Bergamo, è stato colpito alla testa con un martello in gomma da uno sconosciuto che lo ha derubato del borsone. La vittima, che si trovava in compagnia del figlio minorenne, ha riportato lesioni con 15 giorni di prognosi. Cambiamo adesso del tutto argomento e torniamo al Teatro Petruzzelli dove c'è il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti. Si parla di ripartenza e di economia dopo aver parlato di cultura con Vittorio Sgarbi. Per noi c'è Antonio Bucci. Buonasera Antonio. Eccoci Flavio, ben ritrovati in diretta dal foyer del Teatro Petruzzelli di Vari. Il Ministro Giorgetti C'è, è arrivato poco fa, ha sosolcato questo ingresso, è entrato l'incontro e in corso non si è fermato per le domande con la stampa che pure dovrebbero essere previste al termine dell'incontro. Gli interrogativi sono tanti, perché il Governo lavora ad un pacchetto di ammortizzatori sociali sulle aziende che abbiano di fatti la fisionomia dell'exilva del Siderurgico Ionico. Perché c'è in corso una trattativa sul futuro di quello che è l'asset del trasporto aereo. La Didi Ita questa mattina ha parlato di sette mesi di sportellate con Bruxelles dopo il fallimento di Alitalia. E poi c'è il versante politico. Sulla RAI si rompe il centrodestra oppure no? Tutto questo tra poco con il Ministro che dovrebbe essere pronto anche ai nostri microfoni. Intanto si chiude questa giornata che fa da ponte nella Due Giorni qui al Teatro Petruzzelli. Questa mattina si è aperto con la lettura dei giornali con Giuseppe Cruciani e alla presenza di istituzioni, di imprenditori, di volti noti della cultura come Vittorio Sgarbi che è passato davvero pochissimo fa alle nostre spalle per andare a salutare il Ministro. Con Stefano Accorsi questa sera l'intervento di Giancarlo Giorgetti. domattina l'intervento di chiusura è quello della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Insomma, giro dei campi che tiene dentro tanto il racconto della ripartenza e in queste ore fa il paio con il dibattito sul Green Pass, sul modello francese del Green Pass, sulle restrizioni, su quello che sarà anche il decreto che è atteso entro fine mese anche sui tavoli del nostro esecutivo per capire quanto e in che misura impatterà sulle vacanze degli italiani. Intanto, se non ci sono domande, noi vi rinviamo al racconto della mattinata e poi aspettando il Ministro al termine dell'incontro. Grazie al nostro Antonio Bucci. Allora, sentiamolo il racconto della mattinata come ha annunciato il collega. Sentiamo quello che hanno detto il giornalista Porro e Giuseppe Cruciani. Se noi pensiamo di poter obbligare gli italiani, di avere il Green Pass per entrare bar e ristoranti vuol dire che noi vogliamo uccidere questo paese. Lo vogliamo uccidere sia per le categorie interessate, ristoratori e baristi, ma questo vuol dire riguarda un numero ampio e limitato di persone, ma riguarda per tutti gli italiani perché vuol dire continuare a mettere paura in questo paese e non ripartiremo mai. Io mi sono vaccinato, consiglio di vaccinarsi, però non riesco a capire per quale diavolo di motivo al mondo, uno non possa essere libero di non vaccinarsi, posto che a me, così mi hanno spiegato, visto che ho il vaccino, sono immune. Si aprono così gli stati generali della ripartenza, due giorni sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari, al grido di liberi di pensare, come cita il sottotitolo dell'evento organizzato da Nicola Porro, imprenditori, manager, direttori d'azienda, ma anche politici e volti noti della cultura e dello spettacolo, come Giuseppe Cruciani ad esempio, in una sorta di controcanto dell'attualità, tanto più vista la discussione sul Green Pass, decreto in arrivo entro fine mese, che rischia di revocarlo a milioni di italiani, che pure lo hanno già ottenuto dopo la prima dose e con un meccanismo ancora da mettere a punto. La ripartenza, per adesso c'è di nuovo la comunicazione unica del terrore della ripartenza dei contagi. Arricare in Green Pass che vuol dire? Chi li paga i tamponi per la gente per entrare nei posti, nei bar, nei ristoranti? Chi va al ristorante dovendo pagare pure un tampone se non si vuole vaccinare o non è ancora vaccinato? Mi sembra un meccanismo complesso da mettere in piedi. Sullo sfondo la politica, l'effetto Draghi sui partiti e gli investimenti del pieno di ripresa e resilienza. Draghi fa giustamente quello che dovrebbe fare un Presidente del Consiglio in questo paese, cioè fa esattamente quello che vuole con i parlamenti che gli deve votare le leggi. Il punto problematico è che non è stato eletto come tutti gli ultimi Presidenti del Consiglio, ma siccome è un Presidente del Consiglio dovrebbe avere decisioni, prendere decisioni, Draghi è un ottimo e un ottimo tecnico. Il punto veramente sempre un po' ridico di questo paese è che non vengono mai eletti questi Presidenti del Consiglio. Cruciani e Porro hanno parato di ristorazione, un settore ancora fermo per metà con le discoteche che restano almeno per adesso chiuse. I rappresentanti di categoria fanno il punto, bene il Green Pass dicono, ma abbiamo bisogno di garanzie e punti fermi per le prossime settimane. Covid, ristoratori e mondo dell'intrattenimento. Da movimento impresa le preoccupazioni per un settore che per metà resta ancora fermo. Le discoteche sono al momento chiuse e non manca il disappunto da parte dei rappresentanti di categoria. Ancora una volta il CTS e il Ministero della Sanità stanno dimostrando una scarsa capacità nella lettura della situazione reale. si è passati da un controllo a fasce a un liberi tutti che non va bene e che rischia di penalizzare pesantemente le attività produttive che hanno già pagato Dazio per tutto l'inverno. Bene il Green Pass, spiega Mastrorilli, che secondo le sue riflessioni rappresenta uno strumento prezioso nella battaglia al virus allo scopo di garantire continuità del lavoro nel settore. Per quanto riguarda il Green Pass siamo assolutamente favorevoli nel principio perché con l'avvento dei vaccini bisogna arrivare a separare il virus e non le persone per cercare di essere di tornare a una vita il più possibile normale. Allo stesso tempo l'onere del controllo non può essere dato ai gestori dei locali ma dovranno essere le forze dell'ordine a fare dei controlli a random. Sui giovani poi sono stati commessi gli errori più gravi, l'unico luogo che doveva essere deputato al divertimento e all'aggregazione è chiuso, ovvero le discoteche, mentre è possibile ballare in tutte le parti d'Italia per non parlare poi dei viaggi all'estero. Adesso sono le varianti a preoccupare. Una variabile che sembra essere sotto controllo, spiegano gli esperti, grazie ai vaccini. Ma la pandemia Covid sin da principio ha lasciato soprattutto i ristoratori sempre con il fiato sospeso a colpi di imprevedibilità e a colpi di scena. Per questo gli imprenditori chiedono garanzie e sono al lavoro per una serie di proposte a tutela di tutti per scongiurare quello che è già accaduto nell'ultimo anno. Noi chiediamo un cambio dei passi e come Movimento Impresa a settembre riuniremo i nostri associati per una serie di proposte e soprattutto chiederemo che in futuro il sacrificio sia chiesto a tutti gli italiani, anche quello economico, perché la pandemia è un problema sociale e deve essere un problema condiviso. Cambiamo argomento tra risianamento delle reti e potenziamento del depuratore con un investimento di 20 milioni di euro. AQP potenzia il servizio idrico a Castellanagrotte. 20 milioni di euro. E quanto sta investendo Acquedotto Pugliese per migliorare e incrementare il servizio idrico integrato nel territorio di Castellanagrotte tra interventi per il risanamento della rete e potenziamento dell'impianto di depurazione. I cantieri sulla rete cittadina sono rivolti alla distrettualizzazione, al controllo delle pressioni, al monitoraggio delle grandezze idrauliche, nonché alla sostituzione dei tronchi vetusti. Obiettivo è la sostituzione di 4 chilometri di condotte idriche, la realizzazione di 10 postazioni di misura e di controllo delle pressioni, la suddivisione della rete in tre distrettori e il rifacimento di 607 allacci idrici per un importo di 1,8 milioni di euro. Questo consentirà ovviamente un migliore servizio e una qualità migliore, superando una serie di problematiche nell'erogazione dell'acqua. Questo lavoro in sinergia con l'ufficio manutenzione, con gli uffici comunali, perché chiaramente è l'occasione buona anche per rivedere poi la pavimentazione stradale, ossia una volta effettuati gli scavi e le riparazioni dei tubi dell'acqua, chiaramente ci sarà il ripristino non immediato, perché ci vuole un tempo tecnico, ma nel giro massimo di 60 giorni ci vorranno appunto per ripristinare il manto stradale e questa sarà l'occasione anche per risistemare alcune strade cittadine, ma anche alcune strade periferiche. Anche a Castellana fervono i lavori per il risanamento delle reti idriche, anche qui sostituzione, ottimizzazione della gestione delle pressioni, delle portate e stiamo già traguardando il futuro con questi interventi di risanamento reti che sono, ripeto, solo una parte del complesso programma di interventi che ha Quedotto Pugliese per i prossimi anni. Da Castellana Grotti a Bari, ieri si era la prima cena in verde al quartiere Iapigia, così nasce la prima piattaforma che offre esperienze per tutta la famiglia, per tutta l'estate un fitto calendario di eventi sportivi, esperienze culturali e di intrattenimento con The Place to Do. Dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia, anche a Bari cresce la domanda di appuntamenti e nuove occasioni d'incontro. Nei prossimi giorni il quartiere Iapigia di Bari diventerà il fulcro di una rete di iniziative di carattere culturale, ludico e sportivo, che saranno disponibili sulla nuova piattaforma online The Place to Do. Numerose attività si svolgeranno all'aperto nella Piazza della Pace, in collaborazione con le associazioni cittadine. Campi estivi per bambini, laboratori di orticultura naturale, corsi di yoga, laboratori di teatro Kids and Teen, English Summer Camp, corsi di fotografia, workshop di cucina e fai-da-te, corsi di cucito, make-up e sommelier. Il percorso prosegue con altri appuntamenti selezionabili direttamente sulla piattaforma theplacetodo.com. Il primo appuntamento che ha aperto la programmazione del progetto The Place to Do è stato la cena in verde. Nella Piazza della Pace sono stati allestiti 50 tavoli per una serata animata da musicisti e dagli artisti del Circo Botero di Bari, all'insegna della sostenibilità. Ogni cosa infatti è stata prodotta con materiali riciclabili ed ecosostenibili. Questo è il primo appuntamento di una serie di attività e di iniziative che fanno parte di un palinzesto molto ricco che ci accompagneranno per tutta l'estate. iniziative svolte e organizzate con le associazioni del territorio, realtà locali, artisti che hanno la possibilità da stasera e per tutto il proseguo di esprimersi, di offrire delle esperienze uniche e personalizzate a tutti i nostri clienti che vanno da opportunità per la famiglia, i ragazzi, i giovani che comodamente dal loro smartphone, dal loro tablet possono prenotare le loro esperienze in tutta comodità. Andiamo adesso a Foggia. Al Museo Civico è possibile visitare la Cattedrale Medievale di Monte Corvino tramite una riproduzione visiva in 3D. Visitare la Cattedrale Medievale di Monte Corvino, riprodotta virtualmente attraverso la tecnologia visiva, allo stesso tempo ascoltare i riverberi, l'acustica, i suoni dell'edificio che fu dimora di Sant'Alberto, oggi conservato solo nelle fondamenta. Nel Museo Civico di Foggia archeologia e scienza si incontrano per permettere un vero e proprio salto nel passato. L'iniziativa intitolata ArcheoEchi, archeologia 3.0, è promossa dalla Cooperativa Sociale Frequenze nell'ambito del progetto Stupore al Museo, nato con l'obiettivo di promuovere l'accessibilità, l'uso consapevole e la conoscenza dei beni culturali e degli istituti di cultura nei bambini e ragazzi fino ai 13 anni. Grazie ai visori Oculus Go e alle moderne tecniche di ascolto immersivo è infatti possibile esplorare la cattedrale, riprodotta visivamente e riascoltare la sua acustica originale. L'esperienza è possibile grazie alla prima applicazione di archeoacustica sviluppata dalla start-up Aural Tech, vincitrice del bando PIN Pugliesi. Nel corso dei primi due appuntamenti del mese di luglio nella sala Mazza del Museo Civico di Foggia i partecipanti hanno indossato i visori e le cuffie per poi viaggiare indietro nel tempo all'anno 1000, quando Monte Corvino rappresentava uno dei punti vitali del sistema di difesa strategica per la sicurezza della Puglia e la cattedrale era un'importante sede vescovile. Oggi dell'antico edificio di culto resta poco, ma grazie a questa iniziativa è possibile conoscerlo comunque più da vicino. L'evento è gratuito, l'ultima data è prevista per il 20 luglio. Gianna Nannini, Samuele Bersani, Panariello e tanti altri per l'estate tranese di fuori museo tra musica, spettacoli e appuntamenti speciali. Musica, spettacoli, eventi ed una serata speciale nel segno di Don Pasquale Uva. Piazza Duomo a Trani è pronta ad ospitare fuori museo la Kermessi ideata e organizzata dalla Fondazione Seca, Polo Museale di Trani, che riparte con i grandi appuntamenti live che da agosto a settembre porteranno prestigiosi nomi della musica e dello spettacolo sul palco allestito davanti alla maestosa cattedrale di Trani. Fuori museo entrerà nel vivo il 12 agosto quando a Trani arriverà Gianna Nannini con il suo pianoforte e Gianna Nannini la differenza, il 19 agosto sarà la volta di Samuele Bersani che proporrà il suo tour estemporaneo, mentre Stori sarà lo spettacolo di Giorgio Panariello e poi a settembre con Enrico Brignano il suo unora sola ti vorrei e Gigi D'Alessio con il suo live acustico Mani e Voce. Novità di questa edizione 2021 di Fuori Museo, la prima edizione del premio nazionale Don Pasquale Uva, ma per scoprire il nome di chi riceverà il riconoscimento bisognerà aspettare l'11 settembre. Aver riproposto, aver coinvolto così tanti innanzitutto operatori e così tanti artisti, ma credetemi tanti artisti perché se andiamo a sommare fuori museo con gli artisti coinvolti nella prima edizione del premio Don Uva sarà una bella carrellata e questo essenzialmente dovrà rappresentare quello stimolo a ripartire. Abbiamo platee di mille posti con i distanziamenti già, quindi chi compra il biglietto già sa quello che compra, già sa con chi viene al concerto, se da solo avrà la poltrona da solo, quindi col distanziamento ci saranno i termoscanner all'ingresso per la misurazione delle temperature e corporee, quindi alla fine è tutto tranquillo. Per questa edizione del Tg è tutto, a tra poco per lo sport.